Ciao a tutti da Malaga, oggi è il 5 gennaio 2020, abbiamo trascorso quattro giornate fenomenali, abbiamo cercato di divertirci, di buttare giù un po' di schemi mentali, e ce li imitano, affogano la vita, insomma speriamo di esserci riusciti, ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto siamo stati in ottima compagnia di un grande marco Nescatelli. Consiglio a tutti? Perché lo consiglieresti? Perché è una bella esperienza di vita, è un grande divertimento, è tutto. Te lo ritrovi sul lavoro? Assolutamente sì, assolutamente sì. Certo? Beh cerco di pensarci, nel senso ogni volta che si affronta una difficoltà, un ostacolo, di fronte a un ostacolo si cerca di pensare a questa roba qui, e quindi riflettendoci un attimino quella cosa ci permette di riprenderla con molta più ragionevolezza, diciamo sì. Grazie. Ciao. Qui c'è il sole pieno, quindi ci speriamo, ci speriamo. Fa pure caldo, mi guarda la mia cabeça. Mi guarda come sono, mi guarda è molto caldo. Fa molto caldo. Tengo caldo, tengo caldo. E' il sito. E' il sito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.